Hanno mantenuto la parola ai vertici nazionali della pallavolo e il 2015 inizia con una visita a Scampia nella periferia di Napoli. I giovani atleti e ragazzi del quartiere, noto purtroppo più per Guerre di Camorra che per le tantissime lodevoli iniziative che nascono sul territorio, hanno avuto modo di incontrare il coach dell'Italvolley, Mauro Berluto, che ha voluto personalmente visitare il Rione e conoscerne la gente. Ho dato promessa mantenuta con grande piacere, sono veramente contento di essere qui, prima di tutto per incontrare i ragazzi, come lei giustamente ha detto, e anche per riconoscere a chi con questi ragazzi ci lavora la bellezza e l'importanza di quello che fa. È vero, la storia di Scampia la conoscono tutti, però forse conoscono una parte della storia di Scampia. C'è una storia di Scampia bellissima, fatta di sport, fatta di sport inteso come linguaggio universale, come possibilità magari anche di diventare dei bravi atleti e chissà perché no, anche di andare ai giochi olimpici, proprio qui da Scampia qualcuno ce l'ha fatta, però soprattutto di uno sport che ovviamente possa essere uno strumento importante di aggregazione, di inclusione, che possa dare il suo contributo a far diventare la storia di Scampia una storia ancora più bella. L'incontro, fortemente voluto dall'Atena Volley che opera sul territorio, ha visto una massiccia partecipazione. Al tavolo dei relatori a parlare con i giovani di sport e di legalità, anche il sindaco di Napoli e il presidente della FIPAV Campania Ernesto Boccia. Nel gremito auditorium di Scampia ad accompagnare il commissario tecnico della Nazionale Italiana, tra gli altri, anche il presidente della FIPAV Carlo Magre, ascoltiamo. Ma è una promessa che si mantiene volentieri, perché a Napoli io vengo volentieri, perciò le vorrei fare delle altre di promesse anche un po' più importanti della nostra presenza. Io per riconoscenza anche per le atlete napoletane che hanno partecipato all'avventura della nostra nazionale femminile, mi piacerebbe portare, non dico la maschile, ma sicuramente con un po' di precedenza la femminile, la nazionale femminile della Pallavolo a Napoli. Io credo che sia necessario far sapere a Napoli e aiutare la realtà anche di piccole società che lavorano con fatica sul territorio, portarci veramente ai grandi eventi e far conoscere anche i napoletani e tutti i napoletani l'importanza e la bellezza che ha la Pallavolo.